L'uno e tre minuti, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. La strage xenofoba di Anau in Germania a uccidere nove stranieri a ferirne altri quattro in due locali frequentati da Turchi è stato il 41enne Tobias Ratin che ha rivendicato l'azione con un documento scritto prima di uccidere la madre e poi suicidarsi. Alcuni popoli che non si possono più espellere dalla Germania vanno annientati, ha scritto l'uomo. Il razzismo è il veleno della società, il commento della cancelliera Angela Merkel. Un atteggiamento interiore profondamente razzista è l'odio per gli stranieri. Il ritratto di Tobias Ratin, il killer che ha fatto sprofondare ieri sera la Germania di nuovo nel terrore, viene poco a poco delineato. Così come le tappe della strage che ha messo in atto nella città di Anau, poco più di 100.000 abitanti vicino Francoforte. Ha preso la sua macchina, intorno alle 10 di ieri sera è entrato nel primo Shisha Bar, i locali caratterizzati dai narghilei e di solito frequentati in gran parte da Turchi, Curdi e Medio Orientali, quasi sempre di religione islamica. Ha suonato per farsi aprire e ha cominciato a sparare. Poi il secondo locale, due chilometri e mezzo dal primo, anche qui altra strage, altre vittime, quasi tutte con una storia di migrazione alle spalle. In totale 11 morti. Poi il ritorno a casa e mentre una vera e propria caccia all'uomo si era messa in moto, si è tolto la vita dopo aver ucciso la madre. Era un razzista Ratin e ha rivendicato il suo gesto in uno scritto nel quale sosteneva come bisognasse annientare i popoli che ormai non si possono più espellere dalla Germania. Angela Merkel e tutte le autorità condannano la strage. Il razzismo è un veleno. Noi ci contrapporremo con tutte le forze a quelli che vogliono dividere il paese, ha detto la cancelliera, perché il governo tedesco non conosce distinzioni fra le persone per la loro provenienza e il loro credo. La politica italiana. Il presidente del Consiglio Conte vedrà la prossima settimana il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che gli ha chiesto un incontro. La mia porta è sempre aperta, ha detto il Premier. Renzi aveva dichiarato di non voler rompere la maggioranza ma di cercare invece un chiarimento. Poi in serata il nuovo attacco al ministro Bonafede. Per la prima volta dalla nascita del governo, la settimana prossima Matteo Renzi e Giuseppe Conte si vedranno a Palazzo Chigi. L'incontro lo ha chiesto il leader di Italia Viva. Metteremo fine al teatrino, spiega Renzi, a dispetto del pensiero unico della stampa. Italia Viva è l'unico luogo di presentazione di proposte serie per il paese. Non abbiamo desiderio di rompere. Il momento della verità poi probabilmente arriverà ai primi di marzo, quando il Premier presenterà in Parlamento l'agenda del governo 2020-2023 e sulla quale chiederà un voto. E il risultato non è affatto scontato, anche perché i renziani continuano con il loro distinguo. Infatti l'ex Premier ripete, noi diciamo no a provvedimenti giustizialisti voluti dai Cinque Stelle, non siamo disponibili a diventare populisti. Da Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio risponde, Renzi ha chiesto un incontro, porte sempre aperte. Chiede presidenzialismo, ma i suoi hanno presentato una proposta proporzionale, con sogli al 5%. Ci vedremo in Parlamento, quello è il luogo dove si decide, lì porteremo il nostro programma per il rilancio del paese, poi rassicura l'alleato irrequieto. Sarebbe assolutamente improprio, dice, che mi cercasse altre maggioranze. Eppure Renzi tiene alta la temperatura nell'alleanza giallorossa e torna ad accusare il PD proprio di tramare per sostituire Italia Viva e non molla nemmeno sulla mozione contro Bonafede. Dal Movimento Cinque Stelle risponde il Ministro per lo Sviluppo Economico, che spiega sfiduciare Bonafede significa mettere fine al governo. Inoltre Patuanelli fa muro anche sul reddito di cittadinanza, che Renzi vuole azzerare. Non si tocca. Primo Consiglio europeo del dopo Brexit. I 27 leader riuniti a Bruxelles per un vertice straordinario. Senza la Gran Bretagna sono alle prese con un bilancio europeo per il periodo dal 2021 al 2017. Al 2027. Trattativa difficile, visto che in ogni paese ha interessi da difendere e visto che mancano sul tavolo i 70 miliardi lasciati da Londra. Il Presidente del Consiglio, Charles Michel, ha messo sul tavolo una proposta da 1095 miliardi di euro. Ipotesi accolta freddamente da Spagna, Francia e anche dall'Italia, inaccettabile anche per il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che ha definito il progetto un insieme di tagli sulle politiche tradizionali inadatto ad affrontare sfide importanti. Sembra davvero invertito il trend da contagi del coronavirus. Pechino sottolinea che gli sforzi di contenimento dell'epidemia iniziano a dare i loro frutti. La situazione più critica fuori dalla Cina sono in Corea e in Iran. In Italia, primi rientri a casa dei connazionali in quarantena alla cecchignola. Sul coronavirus non è il momento di abbassare la guardia. È il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Gabriel Jesus, a commentare gli ultimi dati sull'epidemia di coronavirus. Numeri positivi, ancora una volta guariti, superano i nuovi casi accertati, ma nonostante l'andamento sia incoraggiante, dice il responsabile dell'OMS, va mantenuta alta l'attenzione. Anche perché fuori dalla Cina il virus continua a uccidere. Sono più di 100 i casi accertati in Corea del Sud, dove il governo di Seoul ha annunciato ieri la prima vittima. Serebbero almeno 10 le persone che hanno perso la vita a seguito dell'infezione da coronavirus in Iran. A Roma, invece, è finita ieri la quarantena. Per 19 dei 55 italiani tenuti sotto osservazione nella città militare della Cecchignolo, dopo il rientro da Wuhan, ad attenderli fuori dalle strutture dove sono rimasti per due settimane anche i ministri Speranza e Guerini, arrivati per salutarli. Domani mattina potranno uscire anche gli altri 36 nostri connazionali. Al loro posto, dopo una sosta pratica di mare, arriveranno i 29 evacuati dalla Demon Princess. La nave da crociera ancorata da due settimane al porto di Yokohama. Il loro aereo partirà dal Giappone domani intorno alle 14. Buone notizie arrivano anche dallo Spallanzani, dove rimangono buone le condizioni dei due italiani. In isolamento migliorano anche le condizioni della coppia cinese, che presto potrebbe lasciare il reparto di terapia intensiva. E il nuovo bilancio appena arrivato del coronavirus è di 2.144 morti, oggi altri 100, altre 115 vittime, 411 nuovi casi. E c'è un nuovo caso italiano, l'agenzia è arrivata poco fa in redazione, perché un 38enne è stato ricoverato all'ospedale di Codogno, in provincia di Milano. L'ha comunicato l'assessore al welfare della Lombardia. Un 38enne italiano è risultato positivo al test del coronavirus. Sono in corso le controanalisi a cura dell'Istituto Superiore di Sanità. L'uomo è stato spiegato, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Codogno, i cui accessi al pronto soccorso e le cui attività programmate a livello cautelativo sono attualmente ridotti. Le persone che sono state a contatto con il paziente sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie. Chiudiamo con il calcio. Serata positiva per le squadre italiane nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Vincono sia l'Inter che la Roma. I nerazzurri passano in trasferta sul campo dei Bulgari del Ludogores con un 2-0 maturato nella ripresa. Apre le marcature Ericsson con la prima rete italiana. Il raddoppio nel recupero con il rigore di Lukaku. Torna a successo la Roma dopo un mese battendo i Belgi del Ghent. Il gol partita dopo 13 minuti di Charles Perez il giovane spagnolo che aveva segnato in Champions proprio contro l'Inter con il Barcellona. La prossima settimana le gare di ritorno. Ed era l'ultima notizia. l'informazione torna come sempre domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi. Buonanotte. Grazie per essere. Grazie. Grazie a tutti.